Siamo nella zona della Ficoncella alle spalle della costruzione che avrebbe dovuto ospitare le terme di Civitavecchia, costruzione abbandonata, praticamente sotto di noi ci sono le vasche dell'Acqua Felix, ma soprattutto dietro di noi, alle nostre spalle, c'è una discarica enorme che, come potete vedere, contiene e ospita qualsiasi tipologia di rifiuto. Abbiamo tantissimo materiale di risulta, di lavori edili, abbiamo un divano, abbiamo un forno e ci sono intere stanze praticamente smontate e che vengono abbandonate in questa zona. La strada per arrivare in questa grande discarica è a sua volta piena di rifiuti, ma qui, come vedete, c'è veramente di tutto, compresi dei piombini da caccia e ancora polistirolo, plastiche di tutti i tipi e la cosa più normale che c'è sono gli sfalci che vengono abbandonati in questa zona. Una discarica che ha letteralmente bloccato la strada perché chi veniva con il fuoristrada e poteva passare da qui viene letteralmente bloccato, non può più arrivare fino a questa zona perché, come vedete, è interamente coperta di rifiuti di ogni genere. Tra l'altro rifiuti abbandonati in un'area che è anche frequentata dagli animali, ci sono delle capre, ci sono delle pecore che, essendo onnivore, si cibano letteralmente dei rifiuti che vengono abbandonati, mangiano la plastica, mangiano qualsiasi cosa trovano di fronte a loro e questo diventa ovviamente un pericolo perché poi quegli animali producono il latte, quegli animali vengono anche mangiati, potrebbero finire sulle tavole dei cittadini e quindi il rischio diventa alto proprio perché vivono e pascolano all'interno di zone coperte da rifiuti. C'è anche chi non solo scarica i rifiuti ma poi decide di dargli fuoco, peggiorando ulteriormente la situazione. Non è detto che sia chi l'abbia scaricato ma anche chi passa di qui e pensa di fare cosa buona eliminando visivamente i rifiuti, in realtà si crea ulteriormente danno perché brucia plastica, si liberano di ossine e ovviamente tutto il materiale che brucia scende anche nel terreno. Ovviamente questi scarichi di materiale e di rifiuti avviene soprattutto di notte e dove appunto con il favore delle tenebre diciamo si può arrivare a scaricare l'immondizia in totale libertà praticamente perché non ci sono controlli e quindi si può tranquillamente venire e gettare quello che si vuole visto che le forotrappole in questa zona specifica ancora non ci sono. Qua ci sono altri due cassoni enormi di amianto anche se verniciati si vede bene appunto il materiale dal buco che c'è nella parte bassa e quindi fa vedere le maglie di questo materiale come detto pericoloso. Lo smaltimento è ovviamente costoso perché c'è una procedura particolare da seguire per cui in tanti in modo incivile l'irresponsabile preferiscono abbandonarli sulla strada con tutti i rischi del caso. Come vedete il comune era intervenuto mettendo dei New Jersey per bloccare l'ingresso a quest'area verde che è sempre vicino alla discarica che abbiamo visto in precedenza ma nella parte bassa era stata fatta anche un solco ai lati della strada non dal comune probabilmente da chi è il proprietario della terra appunto dove vengono scaricati questi rifiuti ma il solco è stato coperto quindi la macchina torna a passare da qui nonostante New Jersey nonostante il tentativo di bloccarli e quindi l'area che per il momento è abbastanza pulita perché poco fa c'è stato un intervento di pulizia è tornata ad essere già sporca e probabilmente lo sarà ancora di più nei prossimi giorni.